Ciao a tutti gli amici di Android Blog, siamo oggi con Smartband di Sony una band, una fascia wearable che Sony ci propone in abbinamento a Xperia Z2 questo wearable, come vedete, è molto semplice, questa fascia da braccio, da polso ha soltanto un bottone qui sul laterale e non si vede ma è touch anche la superficie superiore brevemente vi voglio far vedere le applicazioni connesse a questa fascia da braccio si chiama Smartband, l'applicazione di configurazione e presenta una serie di menu molto interessanti che vanno comunque visti poi sicuramente nel dettaglio in una possibile recensione è possibile configurare un night mode automatico che imposta praticamente la Smartband in sleeping come se voi stesse dormendo proprio perché la funzione principale è quella di controllare di tenere traccia della vostra giornata poi ci sono delle altre opzioni come out of range, alert quindi vi segnala nel momento in cui siete disconnessi dal bluetooth del telefono in coming call e messaging permette a una serie abilitato fa vibrare la band per segnalarvi l'arrivo di una chiamata o di un messaggio poi ci sono le applicazioni configurabili le vediamo dopo a cosa servono ma qui da questo menu è possibile configurare per esempio il media player o la smart camera e infine ci sono i consigli per un uso corretto della Smartband vediamo subito che abbiamo connesso qui sulla sinistra uno speaker bluetooth al telefono impostiamo tramite la pressione di questo bottone che fa accendere questi led è un tap sulla band parte l'application mode quindi questo wearable adesso controlla lo speaker bluetooth connesso al telefono con un tap è possibile far partire l'esecuzione di un brano ecco qua quindi che è partito il brano in playlist un tap ci permette di fare pausa ecco qua che si ritorna in dei mod perché comunque si era disconnessa riandiamo in application mode e stoppiamo la canzone con un tap doppio tap per schippare ve lo faccio vedere meglio tramite l'applicazione Walkman un tap per fare pausa un tap per riprendere doppio tap per schippare e triplo tap per tornare indietro ed ecco come funziona il wearable infine la Smartband si è rimpostata su dei mod vi consente di visionare il log della vostra giornata tramite l'applicazione LifeLog LifeLog vi fa tornare indietro durante le varie ore della vostra giornata e possiamo vedere come questi contatori in basso tengano traccia di tutte quelle che sono le principali attività steps, kilocalorie consumate, ore di camminata, ore di corsa, ore di sonno eccetera eccetera ce ne sono veramente tante non abbiamo in questo momento il tempo di farvele vedere tutte secondo me è uno tra le Smartband più interessanti perché è veramente semplice vi permette di controllare delle applicazioni preconfigurate e comunque nel design che possiamo vedere nella semplicità del suo design è abbastanza elegante grazie a tutti ciao agli amici di AndroidBlog grazie a tutti